Giuseppe Walter Pitteri è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Cinzia Luison nella loro casa di Sanstino di Livenza. I fatti risalgono al 6 dicembre 2022. Al termine di tre ore di consiglio, la Corte d'Assise di Udine ha riconosciuto l'ex autista ACTV colpevole di aver provocato la morte della donna dopo averla colpita violentemente con una bottiglia. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 26 anni, 22 per l'omicidio, 4 per maltrattamenti, commessi sin dal 2000 con abituali condotte di prevaricazione psicologica e fisica. La moglie era stata sottoposta ad un regime di vita tormentato e intollerabile fino all'ultima aggressione che ne aveva determinato la morte. I giudici hanno anche stabilito una provvisionale di 100.000 euro per ciascuna delle due figlie della coppia.